Fino a qualche settimana fa sono stati in grado di spacciare fino a 10 kg di droga a settimana che finiva in gran parte delle piazze pugliesi. Sostanze stupefacenti di tutti i tipi, dalla cocaina all'eroina, passando per hashish e marijuana. Fiumi di stupefacenti che avevano trasformato il quartiere San Valentino di Andrea in una delle più grosse piazze d'Italia per lo spaccio di droga, dopo l'ormai nota Secondigliano in provincia di Napoli. Tanta droga che veniva venduta per fiumi di denaro che hanno fatto entrare nelle casse del clan milioni di euro. Dall'alba di oggi però, Carabinieri e Polizia sono certi di aver messo la parola fine alla superredditizia attività illecita, sgominando il clan Pesce Pistillo da anni in contrasto con l'organizzazione criminale andriese opposta, ovvero quella dei Pastore. 19 le ordinanze di custodia cautelare eseguite in un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che è riuscita dal 2006 a ricostruire l'organizzazione ben articolata che agiva secondo modalità in pieno stile mafioso. Gli ordini infatti, come si evince dalle indagini, partivano dai boss Michele e Francesco Pesce detenuti rispettivamente nelle carceri di Oristano e Tempio Pausania in Sardegna, i quali potevano contare su cassieri, procacciatori di ingenti quantitativi di droga e varie squadre di spacciatori al dettaglio, protetti da un efficace sistema di vedette che assicuravano protezione dagli sguardi indiscreti delle forze dell'ordine. I provvedimenti sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari Sergio Di Paola su richiesta del pubblico ministero Pasquale Drago. Determinanti dettagli forniti da tre collaboratori di giustizia, grazie ai quali gli investigatori sono riusciti a dare seguito ad un filone di indagini avviato nel 2006 con l'operazione della polizia denominata Castel del Monte. Nove i provvedimenti notificati dai carabinieri della Compagnia di Andrea, dieci dagli agenti del locale commissariato. Quattro ordinanze invece sono state consegnate in carcere a componenti del gruppo detenuti negli istituti penitenziari della Sardegna e nel Baresa, in particolare a Trani. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di diversi episodi di cessione e detenzione di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Dalle indagini sono emersi anche fitti collegamenti con la Camorra e quindi con le potenti organizzazioni di spaccio di Secondigliano. Per spacciare le dosi venivano ingaggiate le cosiddette bacchette, ovvero ragazzi tra i 16 e i 20 anni che venivano pagati a giornata, giovani disposti a tutto pur di guadagnare denaro facile.